Una sensazione indescrivibile di emozioni che si alternano dolcemente. Così Michelle Hunziker descrive su Facebook la sua terza maternità a due giorni dalla nascita della piccola Celeste Trussardi. La conduttrice ha postato la prima foto della sua terza figlia, anche se la bimba per il momento si intravede soltanto sotto le coperte della sua cuna all'ospedale milanese in cui è venuta al mondo l'8 marzo. A dare per prima l'annuncio del lieto evento è stata la sorellona Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle, nata dal matrimonio con Eros. Qualche ora dopo, la stessa mia mamma ha salutato i suoi fan postando su Facebook un bel fiocco rosa e ora regala la prima immagine della sua Celeste, ringraziando tutta l'equipe medica che l'ha assistita durante il parto. Ecco la prospettiva di noi queer per i giorni che seguono il parto e i nostri bebè accanto a noi e non più nella pancia. Una sensazione indescrivibile di emozioni che si alternano dolcemente. Un viaggio che finisce, la gravidanza, e uno che inizia, la vita con i nostri figli. Grazie a tutta l'equipe di medici e osteriche che ci ha assistito al parto e ci ha reso questo momento indimenticabile. Un bacio a tutti voi da me e la piccola Celeste accanto e per la conduttrice Celeste e la terza figlia, dopo Aurora e Sole, nata a ottobre 2013 dall'amore con il suo attuale marito Tommaso Trussardi. Michelle si è unita in matrimonio con il rampollo del celebre brand di abbigliamento nell'ottobre del 2014 e, con l'arrivo di Celeste, la famiglia è più felice che mai. In attesa di tornare a casa dalla clinica Madonnina, mamma e figlia hanno già ricevuto la visita della papà, di Aurora e di nonna Eneke, la mamma di Michelle. Chi se ne frega!